il cappello ovviamente ci sta perché sai gli occhiali da boomer colore maglietto aspetta perfetto ok ho messo inizio va a 30 fps ma guarda quanto ci metto per girare un giro completo guarda quanto ci metto oh guarda come corre è orribile questo gioco dove cazzo sei ok farlo tu bellissimo questo gioco qual è l'obiettivo a parte camminare anzi voglio vedere se riesco ad andare su quella roba lì si può pescare sul farming simulator i giochi dove non si pesca fanno schifo ma ci stiamo baggando stiamo andando fuori dalla mappa ma sto volando sto volando io oddio ciao si si ciao ve ne vado nello spazio ma che gioco di merda ma non è possibile non posso buttarmi ho una cosa volevo fare dove sono sono bloccato in aria mi vedi sono bloccato non posso andare ok oddio sono uscito dalla mappa mi sa ok sono uscito dalla mappa ma io non posso bloccarmi 40 euro costa sto gioco io mi sono softlockato come faccio a morire su su e andare simulator qua no non posso andare di qua non posso andare dove sei tu io sono fuori aspetta che forse mi metto contro questa montagna posso clippare contro il muro invisibile vado da qualche parte non lo so oh oh sono libero sono libero immagina davvero spendere quanti cazzo sono 40 euro per questo gioco che cazzo è che cazzo fai insomma coaccia tipo che faccio li mangio come si gioca sto gioco stiamo correndo alla velocità del suono comunque è presente in quel video degli cazzo si chiamano gli skinwalker che tipo rincorrono la macchina se io mi giro vado alla stessa velocità a meno a meno oh 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 se ti avvicini a questa cazzo di scala la sali in un millisecondo minchia ma qua stiamo facendo infiltrazioni si qua è una villa 5 stelle io provo ad entrare niente non ho neanche le collisioni questo barino io posso entrarci dentro normalmente come se non la fosse sembra presente il collegio farming chime end f f f via donna possiamo buttarci ipoteticamente ok non ce l'ho detto è come apex legends schemi chiesiamo del miglior gioco che ho mai giocato su tutta la mia vita comunque tipo di prodotto avena one to ah che fare speed limit 15 già correndo l'abbiamo superato oddio ma c'è uno con la macchina inserichiamolo che siamo più veloci investimi dai dai Si si cazzo dai che vuoi si può prendere la macchina noo la macchina facciamo una gara allora via CUT IT'S MINESTAR, CUT IT'S MINESTAR, CUT IT'S MINESTAR BRUH